Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Evadict MT Cushion 2, la scarpa più ammortizzata da trail running di casa Evadict Decathlon, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno dell'ecensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche. Per quanto riguarda la suola, queste MT Cushion 2 hanno una suola proprietaria Decathlon con un tassello alto 5 mm. L'intersuola in tecnologia Calensol sempre di Decathlon con un drop di 4 mm. Per quanto riguarda l'atomaia, Evadict è voluta andare sul sicuro e ha scelto una tecnologia Matrix. E per il peso pensate che sarà addirittura sotto i 300 grammi, infatti pesa 295 grammi nella taglia 42. Ora che ne abbiamo viste tutte le caratteristiche, iniziamo con i pregi e i difetti. Iniziamo come al solito partendo dalla suola di queste Evadict MT Cushion. Una suola che mi è piaciuta ma non tanto, nel senso che dà sicuramente un ottimo feedback su tutta la parte di asciutto. Sulla roccia asciutta ancora si comporta bene, ma quando andiamo su roccia bagnata vi assicuro che è come correre con una saponetta. Si scivola tantissimo, davvero tanto. Io sono scivolato più volte andando su roccia umida e bagnata, quindi evitatela proprio. In compenso però mi è piaciuta un po' di più la tacchettatura di queste scarpe, perché avendo una tacchettatura abbastanza ampia, con dei tacchetti distanziali tra di loro, sul fango non si comporta male. Sul fango mi ha abbastanza stupito. Aspetto che poi a me fa sempre storcere il naso è che troviamo una parte di intersuola esposto. È un pochino incavato all'interno della scarpa, quindi probabilmente si va a rovinare meno rispetto ad altre scarpe simili. Però comunque l'intersuola rimane esposto e questo sicuramente porterà a un deterioramento anticipato. Aspetto non da poco di questa MT Cushion per la suola è che hanno fatto tutta una parte sul tallone pensata apposta per chi corre di tallone. Quindi in modo tale da avere un bel appoggio, in modo tale da poter scaricare bene il peso a terra, l'impatto a terra e non avere problemi alle articolazioni. Quindi brava Evadict. Continuiamo, arriviamo a parlare della tecnologia Calensol per quanto riguarda l'intersuola. Allora, secondo me è un'intersuola che ci sta, nel senso è abbastanza morbido, è abbastanza reattivo, secondo me è un ottimo compromesso. È un'intersuola che però non protegge tanto dalla roccia, anche qua se dovesse trovare qualche roccia, qualche radice lo sentite tutto sotto il piede, quindi magari poi vedrete che non è il terreno ideale dove utilizzarla. Però per il resto davvero mi è piaciuta molto la sua morbidezza, molto molto. Non mi aspettavo una scarpa così morbida, una scarpa comunque così anche reattiva, perché davvero con una scarpa del genere io ci ho corso anche a 5 al chilometro. E dà un bel sostegno, sotto il 5 al chilometro eviterei, cioè se correte a 4.30 non è la scarpa per voi. Arriviamo a parlare della Tomaya iniziando dal puntale. Un puntale che è veramente poco poco strutturato. Qua se prendete dentro in una radice o in un sasso, vi assicuro la botta la sentite, la sentite parecchio, quindi fate attenzione. Invece per la Tomaya vera e propria, qui Evadict ha voluto andare proprio sul sicuro e ha scelto una tecnologia terza di Matrix. Il Matrix lo conosciamo, è un materiale già utilizzato da altri brand, è sicuramente buono per quanto riguarda la durabilità, è molto buono anche per quanto riguarda la traspirabilità, quindi sicuramente la Tomaya la promuoviamo, perché col Matrix mi sono sempre trovato bene. Quindi anche qua Tomaya promossa. Arriviamo alla parte del tallone, perché qui c'è un po' da dire. Allora, diciamo che troviamo un tallone non tanto strutturato, nel senso anche nella parte inferiore comunque è un pochino molle. E in generale è un tallone molto basso, molto molto basso. È più come concetto vicino a una scarpa da strada piuttosto che una scarpa da trail running. Questo cosa vuol dire che su dei terreni un po' sconnessi è abbastanza facile prendersi qualche scavigliata. Io qualche scavigliata me la sono presa, diciamo che questa scarpa poi, lo vedremo, è pensata per dei terreni abbastanza semplici, il tecnico proprio non lo digerisce. E diciamo che comunque in generale è un tallone che non mi ha pienamente soddisfatto. Ecco, sicuramente non è un tallone molto strutturato che ci tiene in carreggiata, quello sicuramente no. In compenso mi è piaciuta molto l'imbottitura, una scarpa molto imbottita, davvero ci aiuta tanto, soprattutto magari nei momenti in cui siamo un po' stanchi, abbiamo i piedi un pochino stanchi, quello aiuta veramente tanto. Arrivando a parlare invece di allacciatura e linguetta, beh, linguetta molto classica, svolge bene il proprio lavoro, davvero una linguetta che a me è piaciuta. E per quanto riguarda i lacci, anche loro sono veramente molto classici, è un po' da farci un singolo nodo, quindi nulla di particolare. Combinazione lacci-linguetta, che i lacci si possono nascondere all'interno della linguetta che c'è il taschino, quindi questo aspetto mi piace sempre veramente tanto, quindi brava Ivalict. Per quanto riguarda la soletta, questa è sempre proprietaria dei Catlon, estraibile, io mi sono trovato bene, non penso che andrei a cambiarla, quindi anche la soletta promossa. Ma quindi, perché trailrunner consiglierei questa calzatura? Allora, secondo me a livello di trailrunner va bene un po' per tutti, sicuramente un trailrunner principiante, mediamente esperto, la può utilizzare un po' per tutto, per farci degli allenamenti, per farci delle gare. A livello di gare, secondo me, ci si può fare tranquillamente anche una 100 km, non andrei sopra la 100 km, per il resto penso che possa essere davvero un po' utilizzata da tutti. Su che terreno vi consiglio di utilizzarla? Terreno semplice, davvero semplice, quindi strade fondo valle, single track, ma anche terreni dove non troviamo nessun tipo di radice, nessun tipo di roccia, davvero terreni molto molto semplici, mi raccomando, qualsiasi cosa potreste urtare, potreste sentire male. Detto ciò, quindi arriviamo alle conclusioni per queste Evadict MT Cushion 2. Ve le consiglio, sì, vengono vendute a un prezzo decathlon di 100€, secondo me ci stanno se si è dei principianti, se si vuole utilizzare anche per camminare, possono andare bene anche come scarpe per il trekking, ma in generale se si è dei principianti, secondo me ci sta davvero, poi il prezzo è comunque contenuto, visto ultimamente che tanti produttori stanno alzando tantissimo i prezzi, trovare una scarpa così buona a 100€ ci può davvero stare, cioè mi è piaciuta, è una scarpa col quale ci macinerei davvero tanti chilometri. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!